E' un bel salto, ma Bill Houghton lo affronta per di più con i pantaloni in fiamme. E arrivasse almeno nell'acqua, no, arriva in una vasca incendiata, che lui spegne come in un gioco di prestigio. Non tutto il pubblico vuole il bis, ma Bill ripete il suo numero e col rallentatore. Signorina, niente da fare, Bill è un giovanotto reprattario.